Il libro dei sette sigilli, l'Apocalisse con Dondolindo Ruotolo, il creato, la giustizia, il dolore, libri sigillati per l'uomo. Il mondo, i cieli, la terra, gli uomini sono per noi come un libro sigillato, non vi possiamo leggere se l'infinita sapienza di Dio non lo dissigilla. Nessuno conosce il padre se non il figlio e colui a cui il figlio lo rivela. Matteo 21, 27 Disse Gesù, e nessuno conosce i segreti della gloria di Dio nella creazione, libro sigillato, se il verbo di Dio non glieli rivela, aprendo ad uno ad uno questi sigilli. Siamo troppo abituati a considerare il mondo secondo le nostre vedute e i nostri poveri disegni. Siamo troppo traviati nel riguardare la natura come qualcosa da sé e indipendente, quasi che non venisse da Dio e non si muovesse secondo i decreti della sua volontà. Per questo capiamo poco, così poco, della natura, e viviamo come dissennati fuori della divina volontà. Dio è il creatore e il governatore di tutto, ed ogni creatura segue i disegni e decreti della sua volontà, e così attinge dalla sua infinita bontà. Se è libera e si disorienta da questa volontà, ecco altri ineffabili decreti e disposizioni della provvidenza che rimettono l'ordine. Anche queste disposizioni, rispondenti ad ogni colpa, ad ogni traviamento con misura esattissima, sono per noi come un libro sigillato. La nostra mente ci si perde molto più che nel libro dei decreti di provvidenza che governano il mondo. Questo codice penale, potremmo dire, che è sanzione di ogni colpa. È per noi un mistero intricatissimo, perché noi non siamo giudici del cuore umano, ed erriamo sempre nel valutarne i meriti e i demeriti, fino alle più piccole sfumature, come fa il Signore. Libro poi sigillato per eccellenza è per noi quello del dolore, e dei decreti della provvidenza che lo distribuiscono e lo regolano in tutte le creature, e soprattutto nell'uomo. Se dispiegassimo innanzi la nostra fantasia come in un quadro tutti i dolori umani, e vi fermassimo sopra la mente indagatrice per scoprirne il perché, ci troveremmo tra tali tenebre da impazzirne. Già la nostra intelligenza e il nostro cuore si smarriscono nel percorrere la corsia di un ospedale, già si disorientano nel vedere un'anima immolata, e se non si rifugiassero nel ricovero dell'oscura e semplice fede, si perderebbero miseramente tra le potenti esplosioni della giustizia, della misericordia e dell'amore di Dio, che a noi appaiono solo come un mistero di inesorabile terrore. Il dolore è quasi la grande officina dell'amore, dove l'anima si fonde, si rifonde, si gesella, si ingemma. È il grande fucinatore di amore, che ripara, risana, restaura, e fa uscire dalle scorie l'oro puro e dalle rocce le gemme. È l'incontro della volontà divina con quella umana, la quale, come sarmento al contatto del fuoco, tutta s'avvampa, si oscura e si incenerisce. Questi misteriosi libri sigillati li può aprire solo l'agnello di Dio, la vittima immolata sul calvario e ce li può fare intendere solo lui, spirante amore, redenzione e vita dalla sua croce. Neppure gli angeli del cielo possono intendere certi misteri della provvidenza, perché la loro potente intelligenza non è omnisciente ed onnipresente, neppure i demoni possono scutare l'essenza stessa del dolore che li avvince e per questo nel loro terrificante dolore bestemmiano. Sono troppo carichi di ingiustizie per capire la giustizia e troppo arsi di odio per capire le ultime risorse di un infinito e dolorante amore. Il libro sigillato San Giovanni vide il trono di Dio nelle luci di diaspro, di cornalina e di smeraldo. Ne contemplò come poteva l'intima gloria nei sette spiriti, nei vegliardi e negli animali. Ne contemplò la gloria eterna che ogni creatura gli dà. Vide tutto questo perché doveva annunciare gli ultimi avvenimenti dei tempi e gli avvenimenti degli ultimi tempi, regolati dalla divina provvidenza e logicamente vide in un simbolo il mistero dei decreti che li regolano. Ecco, nella destra di colui che sedeva sul trono, un libro. Apocalisse 5, 1 Ossia un rotolo di foglie avvolti intorno a un bastoncino, come erano in quei tempi i libri. Il simbolo doveva rispondere e rispondeva agli usi e costumi del tempo, diversamente sarebbe stato inintelleggibile. Gli antichi scrivevano su lunghe strisce di papiro o di pergamena. Scrivevano all'esterno e all'interno quando il papiro o la pergamena vi si prestava. I libri potevano essere formati perciò da parecchie strisce avvolte intorno allo stesso bastoncino, dall'alto in basso o dal basso in alto, e ciascuna striscia era tenuta stretta e avvoltolata al bastoncino da un nastro, che si fissava con un sigillo, quando non si voleva far conoscere ad altri ciò che vi era scritto. Un libro così confezionato si poteva leggere solo rompendone i sigilli uno dopo l'altro. San Giovanni vide da colui che sedeva sul trono venire fuori qualcosa di misterioso e di completo nel mistero, quasi che non vi si potesse aggiungere nulla. Era qualcosa di luminoso, che non si scorgeva completamente, quasi fosse ripiegato, nascosto e sigillato. Era qualcosa che si raccoglieva nel tempo e si snodava nei secoli, quasi fosse avvoltolato e dovesse svolgersi. Era chiuso alla sua e ad ogni intelligenza quasi fosse sigillato, perché quella serie di avvenimenti erano ordinati e regolati dalla Divina Sapienza. Tutto questo insieme luminoso e misterioso egli lo viveva nell'anima sua. La potenza di colui che regnava dominava quegli avvenimenti. Sapienza li guidava, l'amore quasi li avvolgeva di premurosa cura. Tutto questo San Giovanni non seppe esprimerlo che con il simbolo della destra di colui che regnava, quasi mano che comandava, regolava e operava, e non seppe vedere in quella mano quegli eventi misteriosi e oscuri che come un libro di sette fogli avvolti e sigillati. Vedeva qualcosa di immensamente più grande ma di profondamente misterioso che avrebbe voluto conoscere perché gli comunicava una vita straordinaria nell'anima. Capiva che quell'insieme misterioso si riferiva al mistero delle sette chiese alle quali gli era stato ingiunto di scrivere e quindi al mistero della chiesa nei secoli futuri, poiché la voce che gli aveva parlato al principio gli aveva detto chiaramente che voleva annunciargli le cose che dovevano accadere. Apocalisse 1,19 E per questo è detto che scoppiò in un gran pianto quando vide che nessuno poteva aprire o guardare. Quell'insieme di misteri che egli esprime con il paragone di un libro. Se non avesse visto qualcosa di immensamente più grande e profondo di un semplice libro, non si spiegherebbe quel suo piangere a dirotto. Su libri sigillati della vita alla luce di Dio Nessuno infatti può scrutare i giudizi di Dio e segreti della sua volontà negli angeli o i santi nel cielo, negli uomini in terra, nei morti o gli spiriti infernali sotto terra. Solo il figlio suo lo può, perché solo egli conosce anche le profondità di Dio, essendone l'infinita sapienza. Perciò uno dei vegliardi disse allo sconsolato Giovanni, che piangeva dirotto, pensando che tanti misteri sarebbero rimasti nascosti alla chiesa, alla quale avrebbero potuto far tanto bene. Non piangere! Ecco il leone della tribù di Giuda! La radice di Davide ha vinto! Sì da aprire il libro e sciogliere i suoi setti sigilli. Apocalisse 5,5 Uno dei vegliardi poté essere proprio Giacobbe, il quale ricordò allora la profezia da lui stesso fatta sul letto di morte a Giuda, suo figlio, chiamandolo leone per la forza di colui che doveva discendere da lui, ossia del Redentore, vincitore dell'inferno e amoroso predatore di anime. Genesi 49,9 Egli solo aveva vinto il peccato, la morte e l'inferno. Egli solo aveva vinto la debolezza e l'insufficienza della creatura umana, glorificando degnamente Dio. Egli, il germoglio, ossia Rampollo di Davide, era in Messia promesso, ed aveva ottenuto dal Padre la conoscenza piena di tutti i misteri futuri. Egli solo, quindi, poteva aprire il segreto di quei misteri e scioglierne gli arcani che come sigilli li chiudevano all'umana intelligenza, come leone di Giuda, predatore divino di anime, e come radice di Davide, epilogo e meta dell'universale aspettazione. Egli conosceva tutti i misteri della provvidenza e tutto il percorso dei secoli che in lui si incentravano. Quanti misteri sono per noi sigillati, ed Egli ha vinto di sigillandoli, e vincerà sino alla fine nelle ultime, supreme e gloriose manifestazioni del suo amore. Libro sigillato è la Sacra Scrittura, scritto veramente di dentro e di fuori, per il suo senso intimo, spirituale e mistico, e il suo senso letterale è il libro che lo annunciò nel Vecchio Testamento e che conserva i tesori della sua parola nel Nuovo Testamento, scritto di fuori, nelle figure e nelle profezie che lo adombrarono e di dentro nella realtà che ci vivificò intimamente. Libro sigillato sono i misteri della vita di Gesù Cristo, libro mirabile a due facce, per così dire, per la sua natura divina e umana, scritto di dentro e di fuori, perciò nei suoi profondi misteri divini ed umani. L'incarnazione, la natività, la passione, la risurrezione, l'ascensione, la missione dello Spirito Santo e la seconda venuta del Redentore sono i sigilli di questo libro che possono intendersi solo se Egli li apre, illuminandoci. Libro segnato da sette sigilli è la passione di Gesù Cristo, somma impotenza dell'Onnipotente, somma pena nell'impassibile, somma stoltezza innanzi agli uomini, essendo Redentore e infinite sapienza, somma povertà nel Dio delle ricchezze, somma ignominia nella somma maestà, sommo abbandono di Dio nella somma unione, somma severità nel sommo amore del padre verso il figlio. Il pianto della piccolezza umana impotente a capire Tutti questi misteri e moltissimi altri della Divina Providenza nel mondo e nelle creature ce li può far decifrare solo Gesù Cristo ed Egli lo fa non solo attraverso il Magistero Comune della Chiesa, ma anche attraverso le manifestazioni particolari del suo amore. Egli fa risplendere di luce più viva il Magistero della Chiesa ed effonde il suo amore non quando la presunzione dell'orgoglio umano pretende scrutare, criticando ma quando a somiglianza di San Giovanni piange riconoscendo la miseria e l'insufficienza dei propri lumi. Siamo in tempi di tenebre fitte, il mondo appostata da Dio non capisce più nulla dei misteri profondi dell'amorosa carità di Dio nella Providenza con la quale regge le sue creature. Non capisce più nulla della parola di Dio profanata dalle sottili stoltezze del pensiero moderno. Non capisce più nulla dei misteri dell'immolazione delle anime privilegiate, dei segreti della santità, delle armonie del dolore, delle oscurità nel governo degli uomini, delle ingiustizie apparenti nella loro vita, delle guerre e degli altri castighi pubblici. Capisce ancor meno le ineffabili grandezze della fede e della Chiesa. Tutto gli è sfigurato, tutto gli è come sigillato e senza l'intervento del Redentore e della luce dello Spirito Santo che egli ci merita e ci dona, tutto gli è indecifrabile. È necessario implorare i lumi divini non con le recriminazioni della nostra soltezza ma con le lacrime della nostra preghiera, della nostra omigliazione e della nostra penitenza. L'accorato pianto di San Giovanni ci dice chiaramente, poiché è necessario il pianto del mondo, spettatore dei misteri della provvidenza, perché si faccia luce nelle traviate menti e coscienze umane. Ci dice che dopo un fiume di lacrime si apriranno i sigilli dei misteri che ci assillano. Questo fiume di lacrime è già scorso e scorre tuttora, poiché tutta la terra è stata un campo di guerre spaventose, di lutti dolorosissimi per le morti, la fame, le epidemie, la miseria e per la confusione dei pubblici poteri, per cui ci siamo trovati come pecore sbandate in balia dei ladri, dei delinquenti e delle orde militari che sono state e sono sempre un flagello per l'umanità. Possiamo dunque elevare in alto gli occhi e confortarci, perché attraverso gli stessi flagelli una gran luce si diffonderà nelle anime e la misericordia di Dio vincerà la nostra stoltezza e le nostre iniquità. Imploriamo con lacrime di penitenza da Gesù che egli regni e che vincitore della morte e compimento delle nostre speranze, ci liberi dal dominio del peccato e ci ridoni la vita. Ci siamo troppo dimenticati del dovere di piangere salutarmente innanzi a Dio pregando e facendo penitenza e la nostra fiacchezza non tanto fisica quanto spirituale ci ha quasi totalmente privati del beneficio delle preghiere e dei digiuni pubblici della Chiesa. Noi crediamo che quando la Chiesa ci dispensa dalla quaresima, dai digiuni e dalle astinenze ci fa una grazia. È un errore. La Chiesa indulge alla nostra debolezza e per evitare profanazioni e peccati riduce i suoi giorni festivi e le sue penitenze periodiche. Essa però non dispensa e non può dispensare dal dovere della preghiera, della penitenza. Ed allora noi ci troviamo nell'infelice condizione di essere lasciati a noi stessi, privi dell'incommensurabile beneficio di pregare con la Chiesa e di far penitenza e di far penitenza con la Chiesa. Se ponderassimo la grazia che per noi rappresenta il dovere di santificare un giorno della settimana in più della domenica, il dovere di un'astinenza, di un digiuno, di una quaresima, noi pregheremmo a gran voce Dio e supplicheremmo la Chiesa a ridonarci questi preziosi gioielli sottrattici per la nostra indegnità e la nostra ingratitudine. E Giovanni vide l'agnello di Dio. Non piangere, Giovanni, il rampollo di Davide ha vinto. L'esortazione di uno dei 24 vegliardi a Giovanni di non piangere perché è leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide aveva vinto, produsse immediatamente il suo effetto. L'apostolo, che piangendo aveva il capo reclinato e gli occhi offuscati del lacrime, cessò di piangere. Asciugò le lacrime e sollevando la testa mirò verso il trono di Dio per vedere che cosa accadesse del libro e dove fosse il leone di Giuda, rampollo di Davide. San Giovanni, dunque, sollevati gli occhi, mirò al trono di Dio e in mezzo ai fulgori di quella luce di diaspro, di cornalina e di smeraldo, in mezzo allo splendore del creato e all'osanna dei secoli, rappresentati in figura dei quattro animali e dai 24 vegliardi, vide una figura splendente, ritta nella maestà sacerdotale, perché quell'agnello era come un perenne offerente, rubicondo come di sangue, perché era una perenne vittima, ricco di misericordia, che fondeva per tutta la terra, esprimeva in sé la mansuetudine, tanto era pieno di bontà e di pace, ma era potente, guardava i secoli, intorno a quell'agnello, quasi limpido, cielo degradante nei suoi colori, si delineavano i secoli della chiesa, ed egli li dominava con arcana potenza, guardandoli con infinito amore, per diffondervi la sua misericordia e la sua grazia. La visione era complessa e grandiosa, era un insieme di idee e di concetti altissimi, era l'espressione luminosa del Redentore, e per questo San Giovanni, volendo esprimerla, ricorse al simbolo dell'agnello immolato, quegli splendori di luce e di vita gli formavano nella mente l'immagine della vittima divina, figurata dall'agnello del Tempio e immolata sulla croce, come agnello mansueto. Se egli avesse visto proprio un agnello, non avrebbe potuto dire che le sette corna e sette occhi erano i sette spiriti di Dio inviati per tutta la terra. Ne avrebbe potuto soggiungere di un agnello che venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Per quanto un agnello sia animale artio-dattilo, non potrebbe neppure, figuratamente con una zampa o con due, prendere un libro o un rotolo, quello che segue poi nella visione ci conferma e ci rivela qualcosa di immensamente grande. Si direbbe che San Giovanni, più che rivelare, abbia voluto, per disposizione di Dio, occultare con simboli ciò che vedeva per esigere da noi un atto di fede e una meditazione profonda e per rendere manifesto in tutto il suo valore ciò che vedeva solo alla fine dei tempi. Allora la visione doveva compiersi in pieno e la Sacra Scrittura, libro sigillato, doveva essere illuminata di più intensa luce. San Giovanni guardava stupefatto quella figura maestosa e mansueta d'un tempo, regale ed immolata, potente, omnisciente, gloriosa, sacerdotale, divina, perché aveva ai suoi ordini i sette spiriti del trono di Dio e li spediva per tutte le parti della terra, quando ecco essa avanzò verso il trono. San Giovanni guardava intensamente perché nei movimenti che faceva alzando si delineava di più, era come una placida folgore, una nube di luce che si delineava come una figura umana poiché tese la mano e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Non fu un semplice gesto come per necessità della povertà dell'umano linguaggio si esprime San Giovanni, fu come un tendere la mano potente verso i secoli, fu come un dominarli, quasi dicesse al caos dei misteri che contenevano sia fatta la luce. Fu come un amoroso piegarsi di colui che sedeva sul trono verso la destra del Redentore, un affidarle ai misteri di quel libro misterioso, un'espressione vivente di quelle parole «è stata data a me ogni potestà in cielo e in terra» Matteo 28, 18 «Tutto ha dato a me il Padre» Matteo 11, 27 Fu come il compiersi del sospiro dei santi verso il regno del Re Divino, il riepilogo delle orazioni ardenti del Vecchio e del Nuovo Testamento, il compiersi dell'esultanza della medesima creazione e perciò è detto che, ricevuto che ebbe il libro l'agnello, i quattro animali e i ventiquattro vegliardi si prostrarono innanzi all'agnello, avendo ciascuno cetre e coppe d'oro piene di profumi che sono le orazioni dei santi. L'avverarsi e lo svolgersi degli ultimi avvenimenti del mondo e i castighi che dovevano colpire la terra sarebbero culminati nella piena glorificazione del Redentore. Questa glorificazione sarebbe stata di esultanza a tutta la natura e sarebbe stato il compimento delle orazioni dei santi. Regnare con Gesù sulla terra è lo stesso che vivere della sua vita perché il regno di Dio è dentro di noi è lo stesso che rinnovarsi in Lui e per Lui è la solenne promessa della restaurazione universale di tutto in Gesù Cristo e per Gesù Cristo esultanza della terra e gioia dei cieli per questo è detto che migliaia e migliaia di angeli o come dice il testo greco miriadi di miriadi e milioni di milioni unendosi alle voci della terra dicevano a gran voce è degno l'agnello che è stato sgozzato di ricevere la potenza la sapienza la fortezza l'onore la gloria e la benedizione ossia di essere esaltato con gli attributi stessi di Dio creatore potente di tutte le cose sapienza infinita che le governa fortezza che le domina amandole per ricevere da esse onore gloria e benedizione per la nostra vita spirituale possiamo riguardare anche il nostro cuore come un libro sigillato poiché vi sono tanti misteri di ingratitudine e di miserie che Dio solo può scrutare piangiamo con profonda umiltà innanzi a Dio affinché Egli disigilli questo libro ci faccia capire quello che siamo e ci renda cantico nuovo della sua gloria per la sua grande misericordia guardiamo l'agnello divino immolato sulla croce e il suo sangue dirà tante cose a questo nostro duro insensibile e ingrato cuore imploriamo da Lui i sette doni dello Spirito Santo che sono per noi come nuove potenze dell'anima nostra e occhi luminosi che ci fanno vedere in Dio e ci fanno operare per la sua gloria tutto ci elevi al cielo e le creature in mezzo alle quali viviamo ci aiutino a glorificare il vivente per i secoli dei secoli e le teilweise di musica chi ti varia un bel divino il vivente e c ama schimbare la отправADA ci aiutino cWE la Londra scrive come chi ha l'amore una ". Grazie a tutti